Visto che è la festa del San Salvatore, ci sono tante cose che vengono organizzate all'interno della cittadina di Cifalù, un pochino sul lungomare ma anche nel cuore, qui attorno a questi borghi meravigliosi, in particolare, e qui veramente come una carrabbata in un certo senso, da oltre 40 anni non suonano insieme e proprio per l'occasione si sono uniti due gruppi, i Riders e gli Apache, io già solo per questo farei un applauso perché sono 40 anni che di fatto non suonano insieme e li vedete un pochino qui alle mie spalle, alla mia destra e alla mia sinistra e sono i Riders con alle tastiere Totuccio Curreri, al basso Adriano Tramontana, alla batteria Enrico Guarnera e alla chitarra ci sarebbe Sebastiano Catania che ahimè per motivi familiari non è potuto essere qui ma giustamente lo salutiamo perché è come se ci fosse. Gli Apache invece sono presenti con due elementi, così si definiscono Niccolò Chisesi e Gigi Nobile che io saluterei con un applauso, che per l'occasione saranno accompagnati da Agostino Calderone al basso, da David Chisesi alla batteria e da Claudia Tamburo alla voce, la cantante degli Apache. Salutiamo anche e sono assenti perché molti di loro vivono all'estero, qualcuno vive in Italia però non ha potuto raggiungere Cefalù, i megalitici e i sulfuric acid, grandissimi anche questi, mi state facendo emozionare già con i nomi, ci regaleranno un po' di canzoni anni 60 e 70, mi dicono che non si dovrebbe ballare però se qualcuno vuole muoversi un pochino si può. Non è vietato comunque. Non è vietato. Va bene, allora un grande applauso ai riders e che gli Apache, molti cantimenti per la punta. Un applauso, grazie Valeria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.